C'è un caso Siri che si sta valutando, insomma io c'è il Presidente Conte che in qualche modo ha chiamato il sottosegretario a un dialogo con lui, non so se si farà oggi o nei prossimi giorni, c'è la magistratura che sta facendo queste indagini, spero davvero che possa risolvere nel più breve tempo possibile questa situazione di imbarazzo anche per lo stesso Siri, insomma perché oggettivamente essere indagato per una vicenda... Ma lei ci conferma che si parla di una sospensione a tempo? No, io questo non posso confermarlo perché non c'è ancora stato un incontro dal Presidente Conte e Siri, sappiamo che ci sarà breve, quindi nel momento in cui Conte sentirà il sottosegretario troveranno una soluzione adeguata, come dico sempre, nei pieni loro poteri, insomma, sia intellettuali che anche per quello che serve in questo momento. Però confermate la linea che non dovrebbe fare un passo indietro? Io penso che un giustizialismo così grave, insomma, è difficile trovare, cioè, è anche sbagliato, sicuramente però secondo me nel momento in cui c'è il dialogo tra il Presidente e il sottosegretario troveranno secondo me una sintesi per come deve uscire da questa situazione, però ecco, io non mi sento di dire oggi che Siri sia un corrotto, insomma, ecco, questo... e aspetterei a dirlo. E la domanda che si fa a Di Maio, ma magari non solo Di Maio, come mai un sottosegretario che si occupa di altro si deve, si va a interessare di Eolico, per l'appunto che è il nodo poi di questa inchiesta che lo vede coinvolto... Allora, intanto è un sottosegretario del Ministero dei Trasporti, ma è anche un senatore e come senatore rappresenta tutto e tutti, insomma, quindi avevo ascoltato anche persone che chiedevano questo. Oggettivamente, guardate, io non è un evento che neanche è passato, quindi davvero trovo difficile pensare che ci sia un atto di corruzione dietro, però è naturale che le indagini sono in corso, io ho appena fiducia nella magistratura e sicuramente spero davvero che venga fatto luce il prima possibile, ma sono convinto, insomma, delle buone capacità che Siri ha sempre avuto dimostrato, quindi speriamo di risolvere questa situazione nel più bel tempo possibile. Quindi nell'incontro da Conte e Siri decideranno loro come è meglio uscire da questa situazione di impasse mediatica.